Ho portato qualcosa per farci perdonare, una bella cosa. No, no, davvero, non voglio più vedere i dolci in vita mia, credimi, davvero. Ma se ti piacevano così tanto i dolci, scisci. Sei proprio un pane strano. Non credo che per un po' di tempo sarei in grado di apprezzare i dolci come una volta. Min-min. Che è un ragazzino in gamba come te, va tutti i giorni a scuola proprio come te, ma tra tutti noi soltanto lui è grande fortuna. Guarda la televisione come te, cartoni d'ogni genere di favole, ma giocare con l'amico suo è ciò che ama di più. Amico Nino dove vai? Su resta ancora un po' con noi, sei divertente quando fai le lotte con i grandi eroi. Ti muovi con agilità, sai essere dolci del se vuoi, in te c'è tanta novità come un'antica. non lo sanno bene. Il nostro amico arriva dall'antica, come l'abbia fatto qui nessuno lo sa, ma tra tutti i terzi e televisioni lui si trova bene. Forse un giorno a casa Nino tornerà, come riuscirà a far questo non si sa, ma fino a quando lui starà con noi saremo tutti ok. Amico Nino dove vai?